Mattinata interamente dedicata alla visita dell'Università della Calabria per il Presidente della Repubblica d'Albania, Ilir Meta. Accolto nel campus dal Rettore Gino Milo Clecrisci, dopo i saluti istituzionali nella sede del Rettorato, il Presidente e la sua delegazione hanno partecipato all'incontro con la comunità universitaria presso lo University Club, organizzata dal Laboratorio di Albanologia del Dipartimento Cultura, Educazione e Società. Nel corso del dibattito il Presidente Meta ha conferito a sorpresa la medaglia d'onore al Professor Francesco Altimari per i suoi meriti e il suo impegno nella diffusione e nella promozione del patrimonio linguistico e culturale albanese. Sono fiducioso che da questa università, ha dichiarato il Presidente Meta, emergeranno giovani albanologi di successo, degni studiosi del mondo italo-albanese che daranno un contributo straordinario non solo al rafforzamento dell'amicizia tra i nostri due popoli, ma soprattutto al progresso e al futuro europeo degli albanesi. Il Rettore ha poi accompagnato l'illustre ospite in un veloce tour delle biblioteche e dei laboratori d'eccellenza dell'Unical. Il ruolo della nostra università, ha spiegato, Crisci è particolarmente importante per una regione come la Calabria. Grazie al trasferimento tecnologico, infatti, aiutiamo concretamente l'economia del territorio. Il Presidente Meta, infine, ha ringraziato per l'accoglienza speciale ricevuta e ha invitato il Rettore Crisci in Albania per approfondire la possibilità di cooperare attraverso accordi culturali e scientifici.